I corridori si preparano per la maratona di Londra. L'attacco della scorsa settimana di Boston è ancora vivo nella mente di molti. L'esplosione della maratona nella scorsa settimana è stata paragonata a una scena di battaglia, con tre persone uccise e molte che hanno perso gli arti a causa delle schegge di due bombe improvvise che sono esplose nei pressi dell'arrivo. Domenica i corridori di Londra hanno osservato un momento di silenzio prima di partire. Alcuni dicono che erano ansiosi sulla scia della tragedia, ma hanno partecipato per dedicare la loro corsa alle vittime dell'esplosione. Ho sempre corso oggi, ma ovviamente dopo quello che è successo era così scioccante e terribile da vedere, quindi si ripresenta nella mente. La stessa cosa succederà qui oggi, ma si voglia ancora correre, correre per tutte quelle persone che hanno perso la loro vita. Mi ha reso forte e sento che devo sicuramente correre oggi, per la gente di Boston. Ho degli amici a Boston e anche loro erano lì nel giorno della corsa. Questo è per voi ragazzi. La gara di 26 miglia comincia a Greenwich, attraversa Tower Bridge e alla fine passa il Big Ben per finire a Buckingham Palace, nel cuore di Londra. Londra ha raddoppiato il numero di poliziotti all'evento e i bidoni della spazzatura sono stati rimossi dal percorso per precauzione. Gli organizzatori potranno donare due sterline per ciascun corridore al traguardo, per un totale stimato di 70.000 sterline, per il fondo di Boston dedicato alle famiglie delle vittime.